Non è ben chiaro come il consorzio Leap ha preso i dati e il modo con cui li ha trattati nello studio sulle ipotesi di dismissione dell'inceneritore, tanto discusso da mesi e che si è concluso con l'ipotesi di costruire un nuovo impianto. La derusione si è diffusa tra le associazioni ambientaliste cremonesi dopo l'incontro di questi giorni in comune con il sindaco Gallimberti, gli assessori Maurizio Manzi e Alessia Manfredini, oltre alla dirigente Mara Pesaro. Ma resta almeno una carta da giocare? Un'azione legale sostenuta dai cittadini per commissionare uno studio indipendente sulle emissioni di sostanze inquinanti. Solo di fronte ad analisi che dimostrino un rischio per la salute è possibile condurre una trattativa da una posizione di forza, se non un ricorso alla magistratura. È sufficiente che 500 cremonesi finanzino con 10 o 20 euro a testa l'analisi indipendente e la class action sarà possibile. Nel mondo ecologista, presente con ben 11 associazioni, la diffidenza verso gli studi istituzionali è elevata anche perché tutti gli esperti accademici risultano legati alle multiutilise proprietarie degli impianti. Non saranno quindi i prossimi studi, nemmeno quelli della regione Lombardia, a dare spiragli. Il funzionamento dell'inceneritore di Cremona poi è concatenato al teleriscaldamento e quando è stato eseguito l'allaccio alle case popolari di Via Pagliari le canne fumarie sono state chiuse. Ma esistono costi pubblici che gli ambientalisti vorrebbero chiarire. La rete del teleriscaldamento ha bisogno di onerose manutenzioni delle condutture sotterranee e anche i contributi pubblici e statali per l'efficienza energetica dell'inceneritore sono consistenti. Le associazioni esprimono giudizi negativi, inoltre perché il monitoraggio in continuo dei dati sulle emissioni non è mai stato reso pubblico, ma ridotto a una media giornaliera calcolata con un algoritmo che schiaccia gli eventuali picchi di una curva. L'inceneritore resta essere attivo allora, malgrado le direttive europee, vincolato da una gabbia di vincoli economici finché il dibattito non si arricchirà di voci indipendenti. Ambiente Scienza, Acli, Movimento 5 Stelle, Arci, ma anche WWF, Italia Nostra, Lega Ambiente, Medici per l'Ambiente, Democratici per Cremona, Crea Futuro, A Tutto Compost e Andiamo Oltre, lamentano anche il fatto che nel Consiglio di Amministrazione di AEM non siano entrati pensionati del curriculum adatto, che come tali non avrebbero avuto diritto a compensi e forse sarebbero stati più liberi. La fusione con A2A poi preoccupa. Al sesto tentativo, LGH potrebbe convolare a nozze. E se la prescelta sarà A2A, che aspira a incorporare in seguito anche le ex municipalizzate di Come e della Brianza, Cremona per gli ecologisti avrà una quota così piccola da perdere ogni potere decisionale rispetto a Milano, Brescia e Mezzalombardia.